E' la fiera più antica della città di Cosenza che da ben 700 anni ormai attira migliaia di visitatori. Stiamo parlando della fiera di San Giuseppe che si svolge nella città dei Bruzzi dal 15 al 19 marzo. Una fiera che fino a qualche anno fa si teneva nella parte storica della città, a dimostrazione del fatto che ha sempre rappresentato un insieme di tradizioni religiose e popolari e che si è sempre connotata per i prodotti presenti. Dai dolci tipici come il classico mostacciolo al miele, alla zeppola, agli stand di produzione artigennali locali come gli oggetti realizzati in argilla dai famosi pignatari, ai piatti di porcellana fino ai famosi vimini, i contenitori di raccolta della frutta o i famosi panari per l'esposizione al sole dei prodotti tipici di questa terra, pomodori, fichi o melanzane. Ma combinazione o meno da quando si svolge sul Viale Mancini la fiera ha cominciato a perdere il suo fascino ed il suo tocco tradizionale. Infatti basta fare una passeggiata su Viale Mancini e dare un'occhiata agli stand presenti. Sembra di trovarsi in un mercato dove la marcia illegale e contraffatta presente ha invaso. Tutti gli stand e pochi sono ormai gli espositori che esibiscono prodotti pertinenti per l'occasione. Insomma, una violenza vera e propria ad un evento che dovrebbe mantenere vive le tradizioni religiosi e popolari di un tempo. Segno tutto questo forse di una società anch'essa contraffatta e di un mondo e di una cultura che forse hanno rinunciato definitivamente alle proprie tradizioni.